E ha preso il via sabato scorso a Latiano, la terza edizione del Memorial Graziano Zizzi. L'evento è organizzato dall'ASD Solise Palacanestro Latiano con il patrocino della Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Coni, Avis e Acli. In servizio. Al via la terza edizione del Memorial Graziano Zizzi. L'evento ha lo scopo di valorizzare e mettere in risalto l'attività giovanile nel ricordo di Graziano Zizzi. Attraverso lo sport che amava di più e che faceva della correttezza, lealtà, combattività e sportività le note principali della sua vita. Per noi Graziano è stata una persona eccezionale. Io l'ho visto sempre come legato molto alla gente, legato molto allo sport e ai bambini. Come ho anzi detto, l'unica cosa, il modo migliore per poter ricordare Graziano è vederlo in una manifestazione come quella che cerchiamo noi di portare avanti. Cercando di dare onore alla sua memoria. Annualmente noi abbiamo un appuntamento fisso, ormai ce lo siamo dato come appuntamento fisso per ogni anno minimo una manifestazione di questo livello alla memoria di Graziano. Poi seguono altre manifestazioni per noi. Il fulcro dell'espressione massima a livello di manifestazione sportiva è il nostro Memorial. Un amministratore giovane chiamava i giovani, aveva idee giovani e lo soppioteva onorare soltanto come una manifestazione di giovani, giovanissimi. Perché attraverso lo sport credo che sia l'occasione migliore per ricordare un amministratore che si era impegnato anche per lo sport. Credo che sia stato un momento importante, un'organizzazione perfetta, due testimoni altrettanto importanti. Perché ambe due, sia Damiano Faggiano e Valentina Siccardi, hanno indossato la maglia azzurra, ha vinto lo scudetto con le rispettive squadre del passato Damiano Faggiano e Valentina Siccardi, capitana del classa Tarno di quest'anno. Ma ragazzi che si sono anche distinti dal punto di vista comportamentale. Questa è la cosa che più mi interessa, il comportamento a livello giovanile e l'esaltazione dei valori dello sport, che sono quelli della solidarietà, fratellanza, amicizia e soprattutto rispetto delle regole. Terzo Memorial dedicato a Graziano Zizzi, un grande uomo che la comunità latinese non può e non deve dimenticare, un uomo che ci ha sempre tenuto allo sport e ai suoi valori. Un Memorial molto importante per la città di Latiano. Abbiamo visto molti ragazzini che sono venuti qui per portare in alto il loro sport preferito, che è il basket. Vorrei ringraziare la società Sorrisi e Palla Canesso perché si impegna sempre all'organizzazione di questa iniziativa. L'amministrazione comunale della città di Latiano è sempre vicina a tutte le iniziative sportive che tutte le associazioni sportive di Latiano vogliono fare. Siamo molto onorati di ospitare questo evento e speriamo che nel corso degli anni si continui sempre su questa scia. E siamo certi che lo sport è un valore importante per ogni cittadino e soprattutto per i ragazzi. Grazie a tutti.